Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1 dove è chiuso per lavori il tratto tra Rioveggio e Aglio in entrambe le direzioni fino al 26 novembre. Ancora in A1 per lavori di pavimentazione stanotte in orario 22.6 sarà chiuso lo svincolo di Calenzano in uscita per chi proviene da Bologna. Spostandoci in A11 è entrata chiusa per lavori a Chiesino Zanese in direzione Pisa. Sulla statale Trebbistiverina fino al 22 dicembre scambio di carreggiata tra i chilometri 149, 550 e 144, 700 con chiusura dello svincolo di Pieve Santo Stefano Sud in entrata in uscita in direzione Orte. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie per la visione!